...assumano questa caratteristica di garante della normalità, ma c'è un salto di qualità per gli antilocali, perché noi li abbiamo chiamati ad una nuova responsabilità, perché uno dei principi della normalità, se non deve essere proibito e non deve essere eccessivo, è il principio dell'equa distribuzione, che noi abbiamo introdotto e sulla quale che abbiamo molto, ed è quello diverso, l'unico alternativo, diverso dal principio rigoroso delle distanze. L'equa distribuzione è quel principio che a me è chiaro, per il quale non mi interessa avere piazza di pietre, via condotti pulite e avere condotti puliti in mangasare.